Una giovane abitante del Mali ha avuto un parto eccezionale in Marocco, dove era stata trasferita per ricevere cure appropriate su richiesta del presidente del Mali, Ba Noir. Di tutte le spese del trasferimento si sono fatte carico le autorità maliane. La giovane Alima Cisse, originaria di Timbuktu, aveva avuto una gestazione problematica e sapeva che sarebbe diventata la mamma di sette bambini, così come si vedeva dalla ecografia. Ma la sorpresa è stata di tutti quando di bambini ne sono nati ben nove, quattro maschi e cinque femmine. I bambini e la mamma adesso stanno bene e tra qualche settimana potranno tornare a casa. Facciamo gli auguri a questa super mamma anche per gli anni a venire che saranno molto impegnativi.